sapete qual è il veicolo forse più personalizzato al mondo è la Jeep Wrangler e qui a Solone Sema di Las Vegas dell'auto tunizzata non poteva mancare questa versione si chiama Wrangler Red Rock e inizio a farvi vedere un accessorio importante per fare fuoristrada sviluppato direttamente da Mopar e il verricello che in questo caso è stato pensato per non arrugginire a differenza degli accessori aftermarket qui vedete la denominazione del modello e una personalizzazione estremizzata per l'uso duro in offroad con ruote da 35 pollici sul cerchio da 17 i rinforzi qua laterali in acciaio per poter passare senza problemi sulle rocce il fatto che le porte si possano sfilare è una caratteristica del Wrangler qui in versione tutta aperta con anche una sorta di pick up e anche gli interni color tabacco con finitura viene definita a pelle di gatto cat skin marrone molto interessante bella da toccare e qui il classico Wrangler che rimane uno dei fuoristrada oltre che più capaci come dicono in america per andare fuoristrada e anche esteticamente così a livello di sensazione di feeling molto simpatico viene voglia proprio di farci un giro saltarci sopra per farci un giro